Al termine della stagione manca ancora un intero girone tutte le finali, ma tra Vigor per Conti e nuova Tor Tretteste c'è già stato il passaggio di consegne. Il 4-0 con cui la banda di Alessandro Di Nuno batte quella di Francesco Bellinati è un segno, un segno che già al quarto diventa realtà. Ripartenza veloce della Tor Tretteste e pallone a Mojica che rientra sul destro e con una conclusione a giro supera Badì. Al diciottesimo ancora ospiti pericolosi, Santolini mette nel mezzo, Giacomini gira da due passi, Badì respinge e poi Riccucci spara in curva il tap-in. La Tor Tretteste continua a comandare le azioni, Di Mario al ventiquattresimo spara col sinistro ma Badì è ancora attento e devia in angolo. Nella ripresa però la Tor Tretteste chiude i giochi, dopo neppure un minuto la conclusione di Di Mario si perde sul fondo mentre al primo arriverà a doppio. Riccucci cattura la sfera e verticalizza per Santolini che entra in aria e batte in uscita a Badì. Al quarto azione fotocopia a quella precedente, ancora una verticalizzazione, Santolini supera di nuovo Badì ma la traversa gli nega la doppietta. Il gol è solo rinviato all'ottavo, Mojica per Santolini che si gira e dal limite fulmina il numero uno, Blaugrana. La Tor Tretteste va alla ricerca del poker, punizione di Proglia al decimo, Badì si allunga e devia in angolo. La Vigor si fa finalmente vedere al tredicesimo, dopo quasi 50 minuti da spettatori non paganti, i ragazzi di Bellinati provano a riaprire il match sull'asse Palmieri del Prete ma la conclusione di quest'ultimo termina sul fondo. Al diciottesimo ancora Vigor pericolosa, Lobosco Vertafuro, Serpietri esce e lo chiude. Ma al ventisesimo la Tor Tretteste cala il poker, angolo battuto da destra, difesa Blaugrana ferma e Crocchianti da due passi non perdona. L'ultima azione ancora griffata Tor Tretteste con gore al trentaduesimo che costringe Badì agli straordinari. Finisce così al centro Vigor, la Tor Tretteste non solo manda un altro eloquente segnale al campionato, ma grazie alla vittoria del Cinecittà Bettini sulla Lodigiani allunga in classifica. Per la Vigor per Conti invece è notte fonda. Per la Vigor per Conti invece è notte fonda.